Buongiorno pervenuto Pervenuto a San Marcos Questa dopo la sigla Dopo la sigla questa Dopo la sigla questa Ciao bellissima Io mando una bella da un microfono Io sono due Via Adesso te le metto vicino alla coppia reale vicino alla coppia reale Sì No Beh nel caso Con il capello Con il capello Con il capello La maggiore Questa dopo la sigla Adesso ci colleghiamo Con la Spazientate dove c'è la nostra Carla Monaco Ciao Carla come va? Vai Antone Bai Carlo No Vai Antone Non ne rimorre a casa No Non No Non Non Dio 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 Do Questa è la puntura che si trocava. 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 Questa è la puntura che si trocava.